E' finita con un accoltellamento, la lite scoppiata ieri poco prima delle 20 in piazza Don Minzoni a Intra. La volante della polizia ha arrestato un 58enne, già noto alle forze dell'ordine, Maurizio Rossi, che avrebbe colpito un 21enne con una lama. Il giovane, medicato al Dea del Castelli, ha riportato ferite sul volto e la gamba destra, fortunatamente non gravi. Guarirà in dieci giorni. A chiamare la polizia sono stati proprio i sanitari, gli uomini del commissario capo Giuliano Ciraldo, hanno raccolto la testimonianza del ferito e sono poi andati a prendere il 58enne a casa per arrestarlo. Quest'ultimo stamattina in tribunale per l'udienza di convalida, invece sostenuto di essere stato la vittima dell'aggressione e di essersi solo difeso. Il giudice gli ha chiesto di mostrare lesioni o tagli con esito negativo. Ha poi disposto la misura dei domiciliari chiesta dalla PM Anna Maria Rossi. L'8 aprile si terrà l'udienza del processo, intanto la polizia è ancora al lavoro per identificare un terzo uomo che sarebbe stato presente e che avrebbe partecipato all'aggressione.